Vari gli argomenti che hanno animato la seduta della terza commissione consigliare. Tra i punti approvati all'unanimità, quello sulla delibera di giunta afferente il programma proposto dall'Ater di Potenza di reinvestire i proventi della vendita di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Picerno, pari a circa 90.000 euro da destinare al completamento dell'intervento di recupero di cinque alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello stesso comune. E' stato poi avviato l'esame della proposta di legge sulla rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto. In merito è stato deciso di audire nella prossima seduta utile l'assessore Arramo. Sono poi stati ascoltati i rappresentanti delle centrali cooperative sul tema della rivisitazione della legge regionale che è detta disposizioni di principio per la cooperazione. I presidenti della Confcooperativa Basilicata a suo anno, della Lega Coop Basilicata alla Guardia, dell'ACG Basilicata a Semeraro e dell'UNCI Basilicata a Giammaria, dopo aver posto l'accento sull'importante ruolo sociale e capillare svolto sul territorio dalle cooperative, hanno chiesto che la legge in questione vada rivista al fine di far crescere e sviluppare la cooperazione in Basilicata.